Non siamo in Lappogna ma siamo ad Alessandria, è una serata particolare, come vedete siamo circondati da babbi e mammi Natale, una serata in cui ci ricordano fondi per la Lega Italiana per la lotta ai tumori, il nostro operatore Roberto è stato puntato fuori di casa per venire a riprendere questa serata e tra poco saranno più di 500 babbi Natali che si correranno per le strade di Alessandria. Tanti auguri a tutti! Da Alpi saranno qui con noi da Alessandria per portare una testimonianza. Voto con il primo cittadino che sorride vicino a babbi Natale arrivato dalla spagna. ! 4! 3! 6! 6! 4! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon Natale e buon Natale. Vai! Giorno a fuori!